Da qua vado e apro le gambe in maniera equa, quindi non solo quella che viene a me, ma quella che va via da me è la più importante, ok? Quindi da qui devono aprirsi entrambe, e su, ancora allungo, 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 e su. Adesso andiamo con questa apertura e da qua iniziamo la bicicletta, andiamo oltre, andiamo in bicicletta, andiamo, bicicletta molto alta, molto grande, andiamo a cercare i pedali che sono lontanissimi, e adesso al contrario, vado indietro, vado indietro, vado indietro, indietro, perfetto. Ora da qua cerchiamo di andare giù assieme senza far troppo rumore, piego le gambe, controllo, e cerco di atterrare contemporaneamente e con controllo. Da qui potete lasciare le mani a sostenere il bacino, io preferisco le braccia lunghe, perché vado a lavorare in maniera più profonda con i glutei, la parte posteriore del corpo. Allungo e vado, calcio, flex down, punta, piede flex, punta, piede flex, tengo questa anca su e poi piego e porto dentro. Ancora allungo, calcio, flex, calcio, flex, punta, flex, vado giù e srotolo.